Compiamo 140 anni quest'anno, si parla tanto di fare rete, di fare sistema, a volte propriamente, a volte impropriamente. La straordinaria iniziativa dell'amico Andrea Busso, direttore del MEF, mi ha trovato ovviamente a braccia spalancate. Stasera Torino merita davvero l'epiteto di un po' di centro del mondo, con le lettere minuscue, perché insomma è notte della fotografia, salone off e entrambe vengono intercettate dal nostro museo. C'è questa meravigliosa mostra di Fuji e tra pochi minuti Marcello Fois inizia il suo reading nella sala qui a fianco. Noi quando le decidiamo, ovviamente dovendo stare attenti alla compatibilità finanziaria del museo, lo facciamo con entusiasmo da una parte ma con cautela dall'altra. Finora hanno sempre dato riscontri positivi e così è anche per questa sera. Abbiamo avuto il museo affollato di visitatori indipendentemente da queste due iniziative fino a pochi minuti fa. Sì, l'abbiamo inaugurata ad aprile, l'idea era quella di tenerla su un mese, il successo ci è esploso tra le mani e l'abbiamo immediatamente prorogata fino a settembre. Noi siamo venuti qua proprio perché c'era la notte bianca, perché abbiamo sentito pubblicizzarla e ci interessava venire alla sera, poi oltretutto in un momento anche molto tranquillo, si riescono a vedere meglio le varie opere esposte. Adesso per la fotografia in particolare ci interessava questo tipo di argomento, perché è un argomento su cui in realtà bisogna sapere molto di più. È molto, direi, proprio da premiare il discorso dell'apertura serale per questo tipo di aspetto. Io sono sempre stato favorevole a questo e ce ne devono essere sempre di più, devono essere assolutamente, si deve continuare a sostenere queste iniziative, assolutamente. Io ritengo che debba essere comunque sponsorizzata di più, ma soprattutto è importante che le scuole la vedano, perché è assolutamente una cosa che porta a riflettere sul reale sfruttamento di quello che può essere la religione e come può essere travisata. Siamo venuti a Torino per il salone del libro, ovviamente, quindi ci siamo trovati qui e siamo entrati. Non mi era mai capitato onestamente, mostre fotografiche ne ho viste, ma mai notte bianche.